molto 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 importante creare nuove connessioni neuronali legate al piacere ciao sono Elena di Elena Tionelti Life Coach www.idablanchet.com e bentrovata anima bella in questo brevissimo video pillola volevo parlarti dell'importanza di prendere delle micropause durante la tua giornata è molto 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 importante anzi basilare allenare il nostro sofisticato sistema mente corpo emozioni cuore a creare nuove connessioni neuronali legate al piacere quindi disinnescare quelle relative al dolore e amplificare e moltiplicare quelle legate al piacere ora abbiamo tutti delle vite estremamente concitate molto spesso abbiamo delle credenze limitanti ho tanti impegni corro da una parte all'altra posso stare tanto tempo o non posso darmi il permesso di riprendermi di riposarmi di avere quei quegli istanti per ebbene bastano veramente micro micro pause brevissime anche di 1 2 minuti spalmate e distribuite nel corso della tua giornata e quindi basta anche 30 secondi un minuto per fare una respirazione consapevole per fermarti per fare un'azione anche piccola e semplice veramente piccola e semplice che crei piacevolezza che apporti piacere nelle tue giornate quindi fare una pausa se lavori in ufficio alzarti dalla scrivania su fermarti su piccoli particolari e portare alla mente se in quel momento non hai una situazione piacevole portare alla mente un ricordo anche piccolo e semplice di una situazione piacevole in quel momento della tua giornata quindi distribuire dei micro momenti di piacevolezza quelli giusti per te per queste micro pause molte micro pause per riallenare a ritornare del sistema a creare nuove connessioni neuronali dedicate al piacere questo accalma il sistema nervoso autonomo e ti aiuta a amplificare a creare sempre di più sollievo dal dolore e benessere e tu in che modo inserisci nella tua giornata queste micro pause di piacevolezza quali sono le cose che fai che ti danno piacere scrivi qui sotto condividi con noi nei commenti che cosa fai nelle tue micro pause durante la tua giornata per ricreare benessere e rilassamento come sempre ti aspetto qui sulla mia mind body coaching tv ci vediamo alla prossima un abbraccio da elena ciao 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 Grazie a tutti.